Buongiorno ai nostri telespettatori Roma in diretta, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Iniziamo quest'oggi parlando di bambini e parlando di pediatria, ma di un settore particolare della pediatria, la pediatria ospedaliera. Lo facciamo perché ci sono delle importanti novità e perché pochi giorni fa a Roma è stato ospitato un importante congresso che ha visto una tavola rotonda attorno allo stesso tavolo tanti medici di questo settore, neonatologi, pediatri, a riflettere su anche il cambiamento di questo approccio, come si curano i bambini in corsia, quali sono le novità, anche perché cambia il mondo in cui viviamo e cambiano anche quindi le cure e perché no, cambiano anche le malattie. Ne parliamo con il presidente di questo congresso nazionale organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Ospedaliera, la SIPO, il professor Ambrogio Di Paolo che è anche il responsabile del reparto di pediatria del Sant'Eugenio qui a Roma. Buongiorno, benvenuto nei nostri studi, grazie per essere con noi. Beh, io dicevo intanto è cambiato o sta cambiando anche l'approccio, intanto delle cure al pronto soccorso, immagino rispetto a tanti anni fa, c'è un approccio intanto alla sensibilità del bambino prima di tutto. La sensibilità è sicuramente aumentata, sicuramente aumentata l'attenzione anche dei genitori e delle famiglie complessivamente verso i bambini, a volte anche esagerando. E l'ospedalità pediatrica è cambiata, insomma rispetto a tanti anni fa quando studiavo io che l'ospedale era diagnostico, la bambina stava male, andava in ospedale e dopo tante ricerche si scopriva che malattie aveva. Adesso non è più così perché la pediatria territoriale è efficientissima, nonostante si parli male del nostro sistema sanitario, ma il pediatra territoriale è efficientissimo e le diagnosi le fa già lui, o comunque indirizza i genitori dove poter andare a fare completamente i diagnostici, insomma se ha sospetto cardiologico sa dove mandarlo in cardiologia, nelle varie specialità. Quindi l'approccio diagnostico si fa, diciamo, entrare dagli ospiti, dagli ambulatori e non è più l'ospedale che fa la diagnosi. Soprattutto e mentre l'ospedale si concentra più su altro, specificando però che il bambino deve essere visto dal pediatra, perché secondo qualche modo europea per risparmiare si trova tanti sistemi, è il modello inglese del physician, che di non affidare più i bambini al pediatra, qualcuno ha fatto questa proposta, non al nostro congresso ovviamente, ma su tavoli tecnici, di lasciare un bravo medico generico, insomma avanzato e dai sei anni in poi lasciare il bambino fino a sei anni al pediatra e poi dai sei anni in poi lasciare il medico a un bravo medico territoriale e poi smisterebbe, questo sarebbe un errore gravissimo. Perché? Perché il bambino di sei, dai sei anni in su non è un piccolo adulto, non si può pensare a ragionare come un piccolo adulto, ma è un organismo in crescita che ha bisogno di uno specialista ben formato sulle patologie in questione. Ho visto dai partecipanti a questo importante congresso molti anche neonatologi e questo è un altro settore dove so, a Roma, in Italia, siamo insomma all'avanguardia. L'anatologia è una scienza a sé, è una scienza molto bella perché salva le vite, salva le vite di pazienti che una volta non pensavamo mai potessero sopravvivere, adesso sopravvivono bambini di 22-23 settimane da gestazionale che se facciamo i conti sono 4 mesi e mezzo, 5 mesi di gravidanza. Sono bambini che chiaramente nascono piccolissimi. Bambini che nascono di 500-600 grammi, adesso senza fare esempi estremi come i 500 grammi, ma insomma bambini dalle 27 settimane in su che vanno benissimo, con un po' scarsissimi riliguati, sono dovuti soltanto all'alta specialità dell'anatologia italiana. Ma anche lì ovviamente si potrebbe fare di più, nel senso che ottimizzare i posti letti, ottimizzare i centri di telepia intensiva, chiudere quelli piccoli, insomma si potrebbe fare di più, accorpare, non chiudere perché ovviamente, perché la medicina a volte è geografica, ci sono ospedali in ogni piccolo paese, però questo andava bene tanti anni fa dove non c'erano gli elicotteri, non c'erano le ambulanze, dove le montagne erano un giorno montagno. E oggi ha un senso, perché questa è una polemica molto ancora accesa nella nostra regione in particolare, ha un senso chiudere certe strutture, accorpare, come dice giustamente lei? Dobbiamo parlare proprio della nostra regione, sarebbe intelligente chiudere alcuni centri, ma non chiuderli definitivamente, farli diventare un unico grosso centro di riferimento. Il famoso ospedale dei Castelli, che poi è stata messa a prima pietra e lì è rimasta, quello potrebbe essere un esempio bellissimo, l'ospedale del Golfo, tanto parlare del nostro centro, che sarebbe un ospedale tra Formia e Gaeta, accorpando tutti i piccoli centri che è Priverno, Formia e Gaeta e fare un unico grosso ospedale di riferimento per tutti gli abitanti, ma questo non vale solo per la pediatria, vale per tutte le specialità. Insomma, siamo nel 2000, dovremmo fare cose da XXI secolo. Quindi essere più razionali anche nel pensare le nostre strutture, però è vero pure che i soldi sono quelli, le risorse sono limitate. Leggiamo oggi sui giornali che il presidente della regione Zingaretti prova a salvarci dal crack, ma insomma è costretto sostanzialmente a aumentare di nuovo l'IRPEF, quindi insomma la paghiamo tutti quanti questa situazione, quindi è una nota assolutamente dolente, però lei dice che si può razionalizzare, mi immagino cosa però possa pensare una mamma, visto che abbiamo parlato del caso della neonatologia, che si trovi a dover dare la luce a un bambino con largo anticipo in un paesino sperduto della nostra regione, dove va a fare in tempo a correre? Dunque, una cosa è il parto di estrema urgenza, certo, tutti i neonatologi, ovunque siano, devono essere formati adeguatamente ad assistere i bambini piccoli, quindi la formazione, però i nostri neonatologi sono bravi, Lazio... Io lo so, il problema è raggiungerli, no? No, 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 non solo quelli, anche quelli che sono in periferia, anche quelli in piccoli ospedali, no, no, decisamente sono tutti bravi, mediamente sono bravi, il problema è poi l'assistenza a Roma... Sono le strutture però, professore, perché dobbiamo anche considerare questo, no? Certo, certo. Anche da mamma ho imparato che non tutti gli ospedali sono in grado, dal punto di vista della struttura, non del personale, ci mancherebbe, a portare il soccorso eventuale che serva in certi casi. Per quanto è possibile il parto di estrema urgenza ha programmato le strutture che sono in grado di assisterlo. E quelle sono, insomma. Non dovrebbe essere trasferito, si sa, tutta la lettatura mondiale sa che i bambini nati nelle strutture vanno meglio, nelle strutture adeguatamente preparate, quindi dove c'è la terapia intensiva natale vera, vanno meglio di quelli nati altrove e poi trasferiti in terapia intensiva, si sa per mortalità e per outcome nel Natale. Quindi bisogna, questo più possibile prevederlo, però affidarsi, e questa è la notizia, insomma so che ne avete anche discusso, ha queste mani esperte che sempre di più sono in grado, grazie alla ricerca, grazie anche alla sperimentazione, credo anche al coraggio di alcuni medici. Buona volontà, perché questo è un altro tasso dolente alla pedaglia ospedaliera, molte strutture hanno pochi medici. Il blocco del turnover, ormai di dieci anni fa, ha tagliato le gambe a molte strutture ospedaliere. Il blocco, ogni medico che va in pensione non viene più sostituito. Ormai i nostri giovani hanno almeno 40 anni. I ragazzi, insomma. I 40 anni, insomma, è paradossale questa cosa. I nostri giovani hanno al minimo 40 anni e poi nella nostra regione c'è un precariato incredibile. Tanta gente precaria che ha 40-45 anni e ancora precaria, non sa se verrà rinnovato il contratto, sebbene so che la regione sul precariato dei medici sta facendo qualcosa, ha raccolto l'elenco e non sappiamo cosa, il nostro Presidente, cosa tirerà fuori. Il Presidente è la cabina di regia che lui ha istituito. Certo. Quindi quali saranno le decisioni? Le attendiamo tutti con ansia perché poi chiaramente riguardano tutti quanti noi, non solo la categoria dal nostro congresso, è venuto fuori anche che non siamo i soli, nel senso che tutte le regioni che hanno un piano di rientro, che sono soggette al piano di rientro, sono le nostre condizioni. Insomma, reparti dove ci sono soltanto 4-5 medici sono in estrema sofferenza. Vuol dire che al massimo riescano a prendere tre giorni consecutivi di ferie. Ma guardi, questa è una cosa preoccupante, non solo perché ci dispiace che non si possa questo personale medico riposare adeguatamente, ma io credo, mi faccio aggiungere anche che un medico stanco, un medico sovraccaricato di lavoro... Sicuramente meno efficiente. È meno efficiente, per forza, un essere umano, no? Quindi al nostro congresso questo vederci, che è importante anche per questo nei congressi nazionali, è emerso che soprattutto le regioni soggette a piano di rientro, gli ospedali hanno un'estrema sofferenza. Però questo è un mal comune che non è un mezzo caudio. Non è un mezzo caudio, certo. Però è un dato di fatto... Moltissimi centri, soprattutto le strutture periferiche, hanno grave carenza di personale dovuto al blocco del turnover. Quindi lavorate davvero sulla vostra buona volontà, come ci diceva poco fa. Un altro tema, abbiamo detto la neonatologia, aspetto importante, andiamo adesso a vedere anche i bambini quando sono un pochino più grandi, che riflette il mondo in cui stiamo vivendo, è l'arrivo in corsia di bambini che vengono da altri paesi. Immagino con patologie problematiche nuove, differenti rispetto a quelle che aveva incontravato fino a qualche anno fa. Mentre ci aspettavamo grandi eventi epidemiologici dal flusso migratorio, questi non ci sono stati. perché tutte le patologie di cui soffre il terzo mondo, il mondo da cui partono le migrazioni, sono dovute sia a malattie infettive, ma che unitamente alla malnutrizione e alla generale aumentano le incidenze. Quando arrivano qui, insomma, le stai dicendo queste malattie poi fanno... No, no, ci sono malattie esotiche, però non sono così diffuse come pensavamo. E' vero che c'è una recudescenza di tubercolosi... Questo è un dato che riscontrate anche voi, insomma, ne ho sentito parlare... Sì, ma... Perché? Perché il focolare mondiale di tubercolosi, adesso faccio... Ed è facile da capire, sono le Filippine, l'Europa dell'Est, il Peru, e se ragioniamo le nostre badanti, le tate dei nostri figli vengono proprio da questi luoghi, e il corno d'Africa, Etiopa, Etiopia, eccetera. Quindi è ovvio che dobbiamo sorvegliarli, però è naturale che i flussi migratori vengano da lì, ma senza le nostre badanti, le nostre nonne... Saremmo persi, insomma, per carità, ma poi insomma, per fortuna si curano queste malattie soprattutto se prese per tempo, quindi se non altro possiamo dare... I focolare mondiali di queste malattie sono proprio in quei paesi da cui noi attingiamo o da cui riceviamo flussi migratori. Fa bene a sottolinearlo, perché poi è facile che si diffondano idee sbagliate... No, no, tutto curabile, tutto affrontabile, però insomma, bisogna guardare in faccia alla realtà come stanno le cose. Per quello che è, c'è comunque un cambiamento rispetto all'arrivo appunto, no, di bambini che vengono comunque da altri paesi? Ci sono delle malattie specifiche o l'approccio è sempre quello? Insomma, vi siete dovuti aggiornare? No, 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 l'approccio ovviamente è sempre quello, l'approccio è sempre quello, non vediamo bambini, tra virgolette, maltrattati, come potrebbe pensare, né nel senso dell'abuso, né nel senso della trascuratezza. I bambini sono amati dai genitori anche fuori dal nostro confine. Alla stessa maniera. Forse c'è un piccolo ricorso in più al pronto soccorso, perché sono qui spesati e non hanno il medico di base, non sanno come accedere, però forse è poco in più dei nostri, perché anche le nostre mamme... E qua io la volevo, qua io la volevo. Anni fa, parlando sempre qui nei nostri studi con un pediatra, mi disse, per fortuna noi pediatri dobbiamo spesso curare più i genitori che i bambini, perché la maggior parte dei bambini fortunatamente non hanno cose serie, ma è l'approccio con i genitori. Immagino soprattutto per un medico ospedaliero, un pediatra che lavora in ospedale, l'approccio con i genitori sia fondamentale. Il problema vero è che c'è un eccessivo ricorso all'uso dell'ospedale, ma questo vale per la pediatria, ma io per quello che vedo vale per tutte le specialità. Beh, forse per la pediatria, insomma, qui di nuovo parlo da mamma, soprattutto nel caso del primo figlio i genitori tendono, poi magari si rendono conto. No, anche dopo, le ansie genitoriali vengono ovviamente sfogate sul bambino e poi di conseguenza c'è un ingolfamento da parte dei genitori, per patologie, estremamente lievi. Come mai secondo lei c'è questo? Beh, l'ansia del genitore, l'ansia della prestazione, l'anno e c'è di ritornare al lavoro il lunedì mattina, quindi potrebbero risolvere i problemi. Anche un po' di sano cinismo. Vabbè, no, magari, ma perché lei deve sapere che i bambini si ammalano puntualmente il venerdì sera dopo le nove. C'è una spiegazione epidemiologica, il lunedì e martedì vanno a scuola, si contagiano di qualcosa, di un paio di giorni di incubazione e venerdì e sabato è rovinata i genitori che l'aspettavano con tanta ansia. Naturalmente, naturalmente, però insomma è anche vero che appunto ok panico a un certo punto perché il bambino magari si fa venire il febbrone di sabato e non sa a chi rivolgerti. No, qui le vorrei, insomma, tra il serio e il faceto, però porrei anche una domanda. No, 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 proprio tra il serio e il faceto. Per noi adulti, no, c'è un ruolo dei medici di medicina generale, quindi anche dei pediatri di famiglia nel filtrare un po'? No, parlando tecnicamente, continuo a dire che la pediatria territoriale è ottima qui soprattutto nel Lazio e probabilmente in tutta Italia. È sicuramente ingolfata dai pazienti perché il massimale che hanno i pediatri di famiglia è abbastanza alto ma soprattutto ingestibile nei momenti epidemici. In altre parole, di solito i pediatri di famiglia hanno tra 800 e 900 pazienti come da contratto collettivo nazionale, come da convenzione. E nei periodi epidemici che se si ammalano il 50% dei pazienti che contemporaneamente il pediatri di famiglia non ce la fa... È impossibile che in un paio, in due, tre giorni riesca a visitare intorno ai 500 bambini e l'epidemia è invernale e arriva sulle porte. Quindi spezzando la lancia al loro favore non è colpa loro. Non ce l'avete con loro, insomma se qualche controllo spugge. No, noi collaboriamo con grande piacere con le pediatri di famiglia e questo è il nostro valido supporto. È ovvio che se la madre va nello studio del pediatri di famiglia e trova 20 persone davanti a volte usa la scorciatoia dell'ospedale. C'è un modo per rassicurare i genitori e far arrivare loro una comunicazione oppure bisogna... Che la febbre non deve spaventare i genitori. No, proprio perché siamo alle porte di questa... No, no, la febbre non è una malattia. La febbre è la difesa del nostro organismo contro agenti batterici esterni. E per dirla un po' alla romana, il nostro organismo aumenta la temperatura per cercare di uccidere i batteri. Quindi è una cosa buona. I genitori non devono spaventarsi della febbre. La febbre non è il sintomo di qualcosa che sta dietro. Molto spesso è l'influenza. Quindi è un episodio virale. Scusate che anch'io... E vede che è forza di stare con i bambini... Quindi non deve spaventare. Febbre senza altri sintomi. Il bambino in buone condizioni si può gestire tranquillamente con antipiretici per qualche giorno. Senza dover dopo 10 minuti di febbre correre in ospedale... La febbre è alta che spaventa, no? Anche la febbre è alta non deve spaventare. Deve spaventare le condizioni del bambino. Perché se il bambino, anche con febbre è alta, continua a fare la peste in giro per casa, vuol dire che sta bene. Febbre è bassa. Il bambino in condizioni scadute, che non mangia, non si alimenta, Anche la febbre è bassa, deve preoccupare. Può preoccupare, insomma. Però c'è questo primo filtro, intanto fondamentale, del pediatra, di famiglia. Poi naturalmente arrivate voi, se c'è bisogno, è chiaro. Insomma, sono le mamme o i papà che ricordano. Il discorso che abbiamo iniziato all'inizio della trasmissione è proprio questo. Che l'ospedale è cambiato, l'ospedale non è più diagnostico. L'ospedale deve essere di terapia, tra virgolette, semi-intensiva. Cioè, quello che non si può fare a casa. E su questo, insomma, avete anche discusso di tante altre tematiche che riguardano problematiche ben più serie. Beh, ci sono sempre temi di aggiornamento. Quindi grandi aggiornamenti, su vari settori, dalla cardiologia, le più disparate, purtroppo, patologie che possono colpire i bambini, ma per le quali, per fortuna, tanto si può fare. Si può fare già tanto. Questa è vero. La scienza va avanti, abbiamo bisogno di aggiornamento, ci siamo aggiornati. Abbiamo parlato dei soggetti debole, appunto, i flussi migratori, i bambini migranti, dell'abuso, altra materia... Assai delicata. Assai delicata, soprattutto dal punto di vista della gestione e soprattutto dei sospetti dell'abuso, perché l'abuso eclatante, purtroppo, è un povero bambino. Però è palese. Però è palese. Diventa competenza dell'autorità giudiziaria. L'aspetto, l'abuso, il sospetto di abuso... È più difficile, vi capita chiaramente, no? Tuttroppo capita in tutti i pronti soccorsi, capita in tutti i riparti, capita anche al periodo di famiglia. Come vi muovete in questi casi? La soluzione è... Ogni caso è una... È un caso a sé. La cosa migliore, comunque, anche nel sospetto, segnalare l'autorità giudiziaria. Che, anche qui, Roma, è molto... È molto beneficente. Nel senso, l'autorità giudiziaria non è invasiva, non piomba a casa con i carabinieri, però fa delle indagini proprie. Con accortezza e servizi sociali. Quindi, la cosa migliore è fare comunque, anche nel caso di sospetto, la segnalazione dell'autorità giudiziaria, la tribunale dei minori. Questa è l'unica cosa che... Non lasciare nulla a casa, nulla di tentato. Non tenere per sé il sospetto. Meglio un sospetto in più e un bambino accusato in meno. Esatto, che è un bambino trascurato. Eh sì, questo assolutamente. Insomma, avete visto poi i ruoli molteplici del pediatra ospedaliero, che sono di carattere anche di supporto psicologico alle famiglie, o carattere sociale anche. Insomma, un lavoro veramente molto complesso, del quale mi faccia dire, professor Di Paolo, non vi ringrazieremo mai abbastanza. Buon lavoro, grazie per esserci venuto a trovare. La lasciamo tornare ai suoi piccoli. Grazie, grazie. Grazie a voi. Per esserci venuto a trovare. Una breve pausa adesso. Ci fermiamo, ma restate con noi. Tra poco continuiamo a parlare di bambini, di ragazzi un pochino più grandi. Parleremo dei liceali e di una proposta e un'iniziativa che ha fatto molto discutere da un liceo romano che ha deciso di segnare sul libretto delle giustificazioni invece che la definizione madre e padre, genitore 1, genitore 2. Si è scatenato il Finimondo. Ne parliamo tra poco.